Sarà pure normale amministrazione, ma un po' fa pensare. Questa volta la voragine si è aperta a Chietiscalo, al villaggio Celdit di piazza San Pio X. Il cedimento, che segue di poco quelli di via Aereo e di via Fieramosca, è avvenuto ieri intorno alle 13.30. Ad accorgersene è stato un residente che ha subito dato l'allarme. La voragine circoscritta con le recinzioni si sarebbe aperta a causa della rottura di un tratto della rete fognante, ipotesi suffragata anche dall'acqua nera e dal cattivo odore diffuso nella piazza. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e poco dopo anche il comune e i tecnici dell'ACA. La buca, che si è aperta nel manto stradale, ha una profondità di circa un metro e dell'arga uno e mezzo. Dopo i vigili del fuoco, dopo un quarto d'oro, sono arrivato per constatare di prima persona e ho notato che era acqua e fogna. Di conseguenza ho chiamato l'ACA, che con noi collabora in modo perfetto, preciso e anche puntuale per quanto riguarda le tempistiche dei lavori e sono venuti ieri pomeriggio stessa ad assistemare. È una cosa diversa da parte alta della città, dove caverne e cunicoli hanno problemi diversi e le frane sono più consistenti. Lei dice che l'ACA collabora nel momento in cui si rompe la rete, ma il fatto che la rete si rompa significa qualcosa? Ci sono delle tubature obsolete, ci sono delle manutenzioni da fare o che non sono state fatte? Questa è una zona dove negli anni sono stati fatti diversi interventi. Su Via Pescara e sulla Tipurtina e di collegamento su Via Terra negli anni 2000 sono state fatte nuove reti fognarie a cassetta e evidentemente questo è un piccolo ramo di collegamento tra gli edifici esistenti intorno alla piazza e la dottrice principale. Via Aereo è una cosa positiva perché la regione ci ha fatto arrivare i 103 mila euro che stiamo impegnando proprio in questi giorni affidando a uno studio di geologia lo studio proprio preciso puntuale di quello che è la situazione attuale di quel tratto di strada e in più abbiamo una piccola somma a disposizione per già intervenire nel sottosuolo e fare un muro di contenimento. Per quanto riguarda la strada del cimitero l'ACA ci ha informati ieri pomeriggio che entro oggi avrebbero posato l'asfalto finale e quindi dato la possibilità di riaprire quella strada più che altro al collegamento del trasporto pubblico che al momento è sospeso.